Ci troviamo nel cuore del quartiere ebraico, in un locale bellissimo. Siamo scesi nella cantina, abbiamo visto questo locale bellissimo, ma questa parte è recuperata perché qui è passato un pezzo di storia della vita della comunità ebraica. Sì, siamo nel quartiere abitato da tanti secoli dai ebrei e nell'edificio dove adesso ci troviamo funzionava bagno rituale. Siamo scesi nella cantina dove si trovava acqua viva, dove gli ebrei dovevano purificarsi. Questo era, qui parato c'è una bellissima sinagoga vicino che parte della comunità ebraica.